Cari amici, prima di riprendere la nostra tradizione della conferenza che faremo domani, 21 aprile, Dies Natalis di Roma, è bene chiarire... Rome, Rome. Beh, Dies Natalis Rome, ma io ho detto di Roma, quindi vabbè... Hai detto prima in latino, seguite. Allora dobbiamo dire Roma è, perché i romani non dicevano... A è, come è, ma a è. Ecco, Dies Natalis. Vogliamo aggiungere, o meglio anticipare, due considerazioni che noi prenderemo da questi due volumi. Uno è questo, un volume di cui consiglio la lettura, ma è disgraziatamente introvabile, l'hanno fatto sparire. E l'altro, che è molto bello, e ci dà un'idea, sia pure in chiave ironica, della realtà del passato. E questo passato è soprattutto quello medievale. Ma prima, appunto, di entrare nel merito di questo discorso qui, siccome noi stiamo vivendo un momento di grande accelerazione, perché sta crollando il sistema politico che avevano cercato di mettere in piedi i signori che vengono dall'Occidente, sta crollando alla grande e con una maggiore velocità di quanto le persone non credano, diciamo bene che cosa significa essere occidentalisti e come questo occidentalismo ha trovato al suo tempo, soprattutto nelle crociate, il suo spirito promotore. E' dell'opposizione alla Chiesa Cattolica Cristiana di Roma, l'antitesi e il conflitto fra Impero e Papato che è durato 200 anni. Poi parleremo appunto di questo scontro tra Papato e Impero che è qui, e che dimostra come il Papato, che oggi è in crisi finalmente, abbia sempre cercato… Cresci di immagine concettuale, teologica… E di cazzi, oltretutto… Gli omicidi vari di fanciulle… Ma poi immaginate se fino a 5-6 anni fa fosse stato possibile a quello che sta avvenendo oggi, me lo si dice perché io quel programma non lo vedo, ma mi viene riferito sulla 7, con tutti i retroscena vaticani di quello che è come epipenomeno la questione della morte di quella povera ragazza. Cambiando completamente il campo, ma perché mi avevo in mente negli episodi di ieri sera, casualmente mentre lavavo i piatti, perché faccio anche… E fai bene, fai il tuo dovere, lava, lava. Sono messico di casa quando non c'è mia moglie e ho sentito sul 7, sul canale 7 dove c'era la rossa, come si chiama? Non te lo saprei dire. L'altra tesina, non mi ricordo mai come si chiama, quella che… La rossa, oh, del 7, del telegiornale della 7. E allora ieri sera c'era Michele, come Dio si chiama? Vabbè è lo stesso che… Michele che faceva il giornalista Santoro, c'era Michele Santoro ospite lì alla Biondona, alla Fatalona, dove appunto incredibilmente si è posizionato sulle nostre posizioni. Sì, sì. Ha detto basta l'arlantismo, basta il libertario, basta la libertà, sprontata le privatizzazioni e compagnia bella, più Stato, più società, più socialismo, più terza cosa. Oh, io sono arrivato, cazzo, una conversione sulla via del Damasco pure lui. È così cari amici, è così. Quello che dicevamo noi 50 anni fa, finalmente qualcuno comincia a capire. Qualcuno comincia a capire, vabbè ma intendiamoci, Santoro è uno che sapeva tutto fin dall'inizio, intendiamoci bene. Lui ha preso anche una buona posizione relativamente… No, ma il fatto che lo dica, non è che si è svegliato ieri, lui lo sapeva già, però gli dicevano di dire quelle cose. Esattamente. C'è qualcuno che comincia a dire ma di anche quello che veramente dà fastidio, vediamo che reagisce. Diciamo meglio che questa gente, nel momento in cui, questi hanno sempre gestito il potere e la… Sentono l'olore del cambiamento. E si buttano loro, come dirlo, ho detto per prima io. Allora, questo ricordiamocelo. Allora, da questo importantissimo libro leggiamo alcune considerazioni e poi le riduzioni le trarranno i nostri amici. Ordini cavallereschi cattolici. La società alto-meridionale era costituita da una suddivisione geografica in larga misura coincidente con la ripartizione delle confessioni religiose. A partire dal secolo IX d.C., l'Europa di fatto coincideva con l'area di diffusione del cristianesimo, da cui la definizione assieme geografica e politica, attenzione qui all'origine del pensiero geopolitico, questa coincidenza coincide anche con la sostanziale criticità dei rapporti tra la Russia, che ha una chiesa sia pure cristiana ma di altro tipo e altra tipologia, e la chiesa occidentalista che ha i gesuiti al proprio vertice. Infatti una differenza notevole alla situazione odierna e attuale è il fatto che mentre la chiesa cattolica gestisce gli stati, viceversa la chiesa cristiana ortodossa viene gestita da chi governa il potere politico. Esattamente. Ed è una differenza sostanziale. Secondo la tradizione imperiale bisantina, dove incomandava era l'imperatore. Era il papa, l'imperatore papa. Eh, appunto. Era l'imperatore papa, perché ricordiamoci sempre che Costantino non ha fatto un cazzo di niente nel cambiamento, ha continuato a fare il papa e il pontefice massimo da imperatore. Esattamente. E infatti il concilio di Nicea è stato gestito e imperato da lui. Agli amici che eventualmente non lo sanno, ricordiamo che Nicea è come dire concilio di Costantinopoli, perché Nicea era un paesino alle porte di Costantinopoli, tanto per chiarire le cose. E quelli che partecipavano a quel consiglio erano filosofi, non erano preti. Assolutamente no, infatti. No, ma non esiste proprio neppure la dottrina, neanche la liturgia, perché la liturgia cattolica e cristiana è stata imbevuta dal mitreismo attorno al 250-300 d.C. Esattamente. A partire dal secolo IX d.C., l'Europa di fatto coincideva con l'area di diffusione del cristianesimo, da cui la definizione, assieme geografica e politica, di cristianità. Mentre le coste del Nord Africa, il vicino Oriente e l'Asia occidentale costituivano il territorio dell'Islam, soggetto al califfo, dapprima insediata a Damasco, quindi a Baghdad, guardate bene queste considerazioni. Damasco-Siria, che era una delle zone di influenza imperiali più importanti. E sono le zone di conflitto adesso. Perché i Severi, la famiglia dei Severi, la discendenza della dinastia dei Severi, era proveniente dalla Siria, da Damasco. Zone di influenza attuali e zone di conflitto. Oggi invece dell'impero c'è la Francia, ma comunque sia... Diciamo che c'è l'occidentalismo in generale, la Francia in crollo dal 1945 in poi. E gli interessi atlantici, ma con la differenza che mentre Damasco in un modo o nell'altro è difesa dalla Russia, per il povero Saddam Hussein... Che si è sostituita la Francia. La Russia che si è sostituita la Francia. Esatto. Per il povero Saddam Hussein, che invece governava Baghdad, l'attacco è stato fulminio, pesantissimo. No, è stato un tradimento dell'Occidente nei confronti di Saddam Hussein. Perché Saddam Hussein, ricordiamoci sempre, l'Iraq ha combattuto per dieci anni di seguito contro l'Iran. Esatto, non solo. E in quel senso combatteva a favore degli occidentalisti. Certo, per gli occidenti. Però è altrettanto vero che l'Iraq aveva combattuto contro l'Inghilterra perché c'era stata la insurrezione irachena in Inghilterra che non fu sostenuta né dalla Germania di Hitler né dall'Italia di Mussolini e questo provocò il collasso. E l'Iraq è la perdita dell'Africa. Esattamente. La perdita dell'Africa. La perdita dell'Africa, nel vero senso della parola. A Baghdad gli occidentalisti, ovvero sì, gli americani, hanno provocato centinaia di migliaia di vittime. Dobbiamo dirlo. Circa 500.000 bambini o fanciulli irachemi. Esattamente. Quindi ricordiamoci queste cose per fare i paragoni. No, morti dopo la guerra. Dopo aver perso la guerra per la fame, per le malattie. Ma con i bombardamenti che non l'ho mai citato. E certo, con i bombardamenti che sono durati 20 giorni di seguito. E quel personaggio che ha denunciato alcune cose che sono avvenute proprio lì, adesso si salva per miracolo perché tanto tanto che lo estradano negli Stati Uniti sarebbe condannato a 150 anni di galera. Salvo contrasti locali, di portata più o meno temporanea, le relazioni tra i due mondi religiosi non erano improntati al conflitto permanente o comunque alla rivalità militante, come è testimoniato dal fatto che Carlo Magno e Arun al-Rashid intrattenessero regolari relazioni diplomatiche. E poi c'è di mezzo anche San Francesco. Ricordiamoci che San Francesco... E San Francesco si è salvato per miracolo perché è riuscito a sgattaiolare dalla Gerusalemme assediata, si è salvato. Se lo prendevano finiva male. Veramente finiva nel rogo il protettore d'Italia. E' stato anatemizzato da ben tre papi, anatema su di te, a San Francesco, le mortacce, i vostri, da che pulpito che viene la prega? Ecco da quello, il quale giustamente se ne fregava perché dormiva, mangiava, mangiava se capitava qualche mela marcia, quindi figuriamoci che... Se però il territorio europeo era prevalentemente omogeneo dal punto di vista religioso, con l'azione e cessione della presenza di sparse comunità ebraiche, il mondo islamico era invece marcato da una costante presenza di minoranze cristiane. Ma quanti sono buoni questi? Pensiamo ai cristiani maroniti che stanno lì a Gerusalemme ancora adesso. Appartenenti sia alla confessione ortodossa che ad altre chiese non calcedoniane minoritarie. I luoghi santi delle origini del cristianesimo facevano parte del territorio dell'Islam e l'accesso ad essi da parte di pellegrini cristiani non conosceva rilevanti opposizioni, anzi era regolamentato e tassato dalle autorità locali. Attenzione a quello che stiamo dicendo perché questa questione è molto importante, il ruolo delle minoranze e come oggi il sistema informativo batte ancora sui pericoli del terrorismo islamico in continuazione nell'Occidente, se è terrorista islamico. Dove, poveracci, diciamolo chiaramente, questi qui messi con le spalle al muro, se reagiscono giustamente vengono tacciati i terroristi, ma in realtà sono persone che vengono messe con le spalle al muro in condizione di non poter reagire, se reagiscono devono per forza reagire violentamente. Proseguiamo perché è il punto che ci interessa. Come sempre, il settembre nero del 70, che è stata un'azione voluta da, oddio, il comandante dell'OAS, come si chiamava? Quello che è morto una decina di anni fa, come si chiamava? Eh, non me lo ricordo. Famosissimo, comandante dell'OAS, scusate, no, della Palestina, delle brigate palestine, come cavolo si chiama? Non l'OAS. Non mi viene in mente? Sì, ma forse è proprio l'OAS. E lui era, diciamo, l'ideatore di questo attacco agli israeliani e al mondo intero, praticamente, per far emergere quello che ancora sta succedendo a distanza di 45 anni in Palestina, dove la fazione dominante israeliana compie abusi e violenze indisturbate da sempre. A tal proposito colgo l'occasione per dire che non è casuale che a capo del cosiddetta sinistra democristiana o post-comunista in Italia abbiano messo un'ebrea svizzera, la quale automaticamente è stata eletta. E infatti... No, lei era già diputata europea italiana. Sì, sì, appunto. Io vorrei capire come cazzo fa a difendere gli interessi italiani uno che è apolite, praticamente, no? Certo. Senza nessuna... L'hanno messa lì, è chiaro, è talmente chiaro che se noi leggiamo queste cose per cercare di far capire come stanno le cose realmente, questo qua viene dalla Svizzera, da quella particolare Svizzera e viene a insegnare l'educazione ai quei coglioni che gli credono. Quindi, insomma, le cose sono sempre le stesse e in giro ci sono sempre gli stessi birilli. No, il bello è che quando tu provi, accenni minimamente a confutare questa banale presa di posizione artificiosa perché è completamente strutturale la questione, cioè è evoluta profondamente da un progetto molto più ampio, no? Esattamente. Però io dico, la gente, quando uno gli dice, ma mettiti in dubbio almeno, no? Certo. Fatti venire qualche dubbio. Manco quello, no, tu sei un reietto, sei un esasperato, un integralista pure te perché non vedi le ragioni dell'altro. Ma che cazzo stai a dire? Che quando qui, che cosa devono fare? Hanno messo di tutto, addirittura le bombe in giro per la Francia, l'Inghilterra, la Germania, il Belgio. In Italia però, guarda caso, in questa direzione, noi che siamo stati sempre al centro del mirino. Certo. Parliamo, per esempio, di quell'assalto all'aereo dell'Italia, mi pare che era, che hanno fatto atterrare a Fiumicino attorno al 78, mi pare che era. Beh, no, c'era quello dell'attentato a Fiumicino. Quello dell'attentato. Avevano, avevano rapito l'aereo, avevano, come si diceva? Ah, beh, ma quello è l'altro caso, sì, sì. Ti ricordi? Sì. E poi di cui ne derivò poi Sigonella. E certo, è certo. Cioè tutto un insieme di operazioni in cui noi siamo sempre stati al centro. Ma, guarda caso, da 30 anni non avviene più niente in Italia. Vuol dire che paghiamo molto bene. Esattamente. Paghiamo le tasse, come i pellegrini che arrivavano a Giuseppe paghavano le tasse e noi stiamo pagando le tasse. Esattamente. Per vivere a casa nostra. C'è sempre qualcuno che per il tramite di qualche intermediario consegna certi soldi. E loro mi stanno dicendo che negli Stati Uniti c'è una crisi economica formidabile. Altro che il 28, il 29. Esattamente. E questa crisi loro cercano di risolverla sicuramente con la guerra. Esportandola. Esatto. Con la guerra. Esportano la democrazia. Anche in Ucraina esportano la democrazia. Esatto. Che cazzo avete capito voi? Eh, appunto. Anche in Jugoslavia esportavano la democrazia alla faccia di quel figlio di puttana di Boris. Chi era? Boris. Boris. Di chi parli tu? Da serbo? No, Benovic. Come cazzo ti chiamavano? No, Mihailovic. No. No, che mi ha. No. Boris, che poi l'hanno ammazzato. Boris, Boris. Non era Boris, sì. Che l'hanno ammazzato poi con la scusa di processarlo. In prigione. Ha perso la guerra e l'hanno processato. Era lui l'assassino, no. Non quelli che bombardarono Belgrado. Era lui l'assassino. E poi l'hanno carcerato, l'hanno messo al tribunale penale internazionale. E lì l'hanno ammazzato. Dice, è morto di infarto. Il cazzo, vogliono tutti di farlo. Una volta no, morivano bruciati. Era un'altra cosa. Comunque... Era più serio. Eh sì. Almeno ci mettevano la massa, i carnetti. Non solo, ma vi posso garantire che è una mia lettura di recente relativamente appunto a queste autodaffere, chiamiamole così. No, diciamo cos'è un'autodaffere perché magari qualcuno non lo sa. L'autodaffere è l'atto di contrizione praticamente, che veniva imposto... Dalla Sacra Inquisizione. In Spagna, eh? In Spagna. In Spagna, non in Italia. Anche in Italia poi. Anche in Italia c'era la commiserazione. Sì, era un'altra cosa. Cioè, il pentimento. Sì. Tu ti penti... Ti penti, però ti bruciamolo lo stesso. Perché il peccato... Ti perdono le peccati, ma ti brucio. Sì, esatto, inestinguibile. Allora, il Papa, è un Papa del 1600, il quale pensò bene a maggiore elevazione delle anime di assegnare la... Era sicuramente il Farnese. Non credo, no? Era quello che poi aveva mandato il mandato di cattura al famoso pittore milanese, come si chiamava? Non te lo so dire. Oh, quello che ha dipinto i Bari, ha dipinto... Ah, cosa? Beh, mica tanto milanese. Caracciolo. Caracciolo. Allora, Caraccio, Caravaggio, il quale si dice che sia morto... Il Caravaggio, che non serviva neanche Caravaggio, cioè Caravaggio era il nuovo... Da Caravaggio. Da Caravaggio. Mi pare severi, gentili, un aggettivo. Non mi ricordo poco. Un aggettivo, era il nome, un aggettivo. Allora, il quale Papa aveva pensato bene al supremo conforto delle anime di dire di dare la soluzione perpetua, come si dice esattamente, la perpetua? Non mi viene, non mi viene. La soluzione da tutti i peccati, come si dice, quello che si fa a chi fa il giro delle sette chiese durante... Le sette chiese, non è un modo di dire, erano sette chiese che erano un tour, diciamo un tour... Turistico. Moralistico o religioso? No, turistico. Turistico. Pagavano e ti davano la soluzione. Oh, non mi viene la parola. La soluzione. Non è la soluzione. Ti davano la... Il perdono, vabbè. Ma non è il perdono. Lo so, ma non mi viene, manca me. Che devo fare? Gli anni. Ah, ho letto un articolo che ci ha mandato, l'amica Maria Rosaria, quella ex guardia di finanza, come cavolo si chiama? Non me lo ricordo. La signora che abbiamo conosciuto davanti al Parlamento, ti ricordi? Adesso no. Vabbè, allora dimmi. Sarda che faceva il Porto Franco in Sardegna. Ah, sì, ho capito. Maria Rosaria... Vabbè, basta con il nome così. Che cosa ha detto? Mi ha mandato proprio un'ora fa, l'ho letto, un assaggio tradotto da un libro tipo... un giornale, cioè una rivista mensile importante, scientifica, che non viene a noi. Adesso, in quest'ora abbiamo... Vabbè, dai, dai, sì. Beh, in cui si dice che, in base a questi studi che hanno portato avanti negli ultimi decenni, contrariamente a quello che è la normale credenza, il cervello solo in età matura non invecchia, ma addirittura diventa, diciamo, sempre più... Funzionale. ...espandibile perché entrambi, due lobby, dialogano tra di loro. Esatto. E quindi c'è una capacità intellettuale... E compensa l'invecchiamento delle cellule corporee dell'altro corpo, non quello cerebrale. Esatto. Non muoiono mai. Esatto. E si integrano, per cui diventa un unico organo pensante e deliberante. Questi, cari amici, sono dolori e infatti ho sempre sostenuto, cari amici, che quando voi morite e vi bruciano, sono dolori, è meglio stare senza essere bruciati. Eh, capito? Tant'è vero che io l'ho detto a tutti, nessuno mi deve cremare. Vabbè, io mi cremo. Eh, allora, e sentirai un certo... Eh, vabbè, l'ho sopperto tanto in vita, figuriamoci se mi metto... Allora, a proposito appunto di cremazione, quel Papa aveva dato la soluzione plemaria a chi assisteva al rogo di un eretico. Eh sì. Allora, capite bene... Danola, eretico Danola. Ma no, no, di tutti gli eretici. Non soltanto... Non soltanto... Eh, al nostro... Caro... Frattacchione Danola. Ma tutti. Quindi tu bastava... Adesso dicono che basta fare altre cose. Ma da allora bastava andare a assistere, mentre bruciavano un eretico... eretico... Eh, facevi audience... Andare subito... Fai audience, no? Mi sa ricordato... 1584-1603. Non te lo so dire. Sì, era lui. Paolo Depp. Comunque, che fosse un farnese, già mi giustifica molte cose. Comunque, proseguiamo. Questo assetto subì duro colpo con la predicazione di Pietro Laretino. Pietro Laretino era un infame col botto, ma non un po', era un delinquente che a un certo punto ha inventato la pistide. Lo sai cos'è una pistide? Lo sapevo adesso. Non è un organo che serve per pisciare, è uno strumento per pisciare, è quello strumento fatto a forma di sole, con i raggi che escono, con la parte... Dentro l'ostia. E dentro ci sono le ostie, quelle che devono essere santificate. E spoloste che devono essere pure. E' il simbolo solare. 1500 circa, adesso l'anno esatto, 1480, una cosa del genere. Quando lui si inventò sta cosa, era perché doveva far capire un concetto filosofico teorico astratto alla gente che di astrazione in quel periodo c'era ancora poca. E quindi è andato a riesumare il mito del sole imperante, sole invictus, che era anche anche quella una riminiscenza del culto mitraico che poi a un certo punto lui ha travisato e ha fatto evidenziare, dimostrando concretamente la trasposizione tra teoria e pratica, che appunto c'era questo organo particolarmente ricco che era l'emblema della chiesa imperante ed era la chiesa che aveva contatto con il trascendente attraverso questo strumento. E infatti l'apisside viene ostentata, cioè l'ostensione. Oh ecco, io sono rappresentante del Gesù Cristo in terra, eccolo perché, ecco come. Esatto, viene presentata nel rito serale alle sei di sera. I raggi del sole galante. Esatto, allora torniamo a noi. Questo assetto subì un duro colpo con la predicazione di Pietro Laretino e il bando delle crociate ufficialmente sostenute dal pontefice. Attenzione, è lì che sono stati loro a creare il conflitto con l'Islam. L'ideologia crociata rigettava l'idea di una pacifica convivenza tra le due fedi e riteneva che il possesso di Gerusalemme, di Nazareth e di Betlemme... Non era Pietro Laretino, mi sono ricordato, era un altro personaggio di cui non mi ricordo. Va bene, era la stessa. No, Pietro Laretino è del 1200, più o meno. Viceversa, questo di cui parlo io, era del 1480. Sì, ma comunque è lo stesso. È della stessa razza. Un pacifica convivenza tra le due fedi e riteneva che il possesso di Gerusalemme, di Nazareth e di Betlemme, da parte di governanti non cristiani, rappresentasse un vero e proprio scandalo per la fede, da sanarsi mediante un intervento bellico che coinvolgesse tutte le principali monarchie europee. Questo ve l'ho letto, cari amici, per farvi capire l'importanza della geopolitica. Perché la geopolitica non ha... Cosa che poi è stata fatta con la battaglia di... Ma l'occupazione di Gerusalemme da parte degli ebrei, non è stata stimolata dagli anglosassari, non è la stessa cosa. Quindi noi siamo nella stessa situazione, perché i conflitti, a prescindere dalle ragioni ideologico e religiose, nascono sempre dalle stesse motivazioni. Ecco perché noi invitiamo i nostri amici a curare la geopolitica. Perché quello che sta succedendo adesso è successo nella storia dell'umanità negli ultimi dieci mila anni. Ma dieci mila volte anche. E questo è una cosa. L'altra cosa, perché qui poi leggeremo ancora da questo libro, che io vorrei appunto far vedere agli amici, è da questo interessantissimo libro, scritto da un noto storico, il quale mettendo in Berlina certi avvenimenti, in realtà dice le cose come stavano. e noi ci riferiamo all'evento fondamentale di Canossa, dove alcuni dicono che l'imperatore Enrico sia stato umiliato da un pretaccio. Enrico IV, il pretaccio era Gregorio VII. Ecco. Chi era Gregorio VII? Tempio da una mignottuna. Ecco. Ma perlomeno lo dimostrava. E' quello che lo ospitava. E' quella che lo ospitava. Certo, la gran signora. Allora, leggiamo una controcronaca. Con il capolavoro di diplomazia impone al pontefice la revoca della scomunica. Cauti commenti tra le forze nobiliari. Canossa. Non sarà certo facile per l'anziano Gregorio dimenticare quei tre lunghi giorni trascorsi a subire i severi rimbrotti di Enrico. Vero e proprio manager dell'impero, dimostratosi oltremodo magnanimo nell'accettare di conferire con un papa di origine contadina, dai modi rozzi, la cui unica occupazione sembra essere quella rivelata da un ottorevole settimanale scandalistico di fare il filo alla giovane e piacente Matilda. Da giorni Gregorio chiedeva, quasi implorando, un incontro con l'imperatore per essere informato da lui sulle nuove procedure di nomina dei vescovi. Se insomma devono essere nominati dall'imperatore, eletti a suffraggio universale o sorteggiati con i dadi, o da tutti e due, quello dei vescovi era in realtà solo un pretesto. Il vero motivo che sfingeva Gregorio a incontrare Enrico era quello di riconquistare almeno in parte la sua stima attraverso un umile gesto di sottomissione. Evidentemente si era reso conto di averla fatta davvero grossa, con quella scomunica sparata un po' alla Carlona, più da poltefice della Domenica che da serio professionista della religione. Lo stesso imperatore l'aveva presa a ridere e aveva chiuso un occhio sull'audace provvedimento, tant'è che si era concesso una spensierata vacanza in una località termale della Toscana, riservandosi di intervenire in un secondo momento per un eventuale rimprovero al Papa. Ma quando ha visto con quante insistenze tenacia il delegato pontificio lo pregava di recarsi da Gregorio, buttandosi ai suoi piedi, piangendo e recitando Rosaria Rafica, in segno di espiazioni, solo allora Enrico si è fatto accompagnare a Canossa per chiudere definitamente la noiosa faccenda. C'è stato un piccolo incidente che però ha leggermente ritardato l'incontro. Il portone del castello aveva la serratura bloccata e per l'imperatore era impossibile entrare. Ha quindi minacciato di andarsene, ma è stato richiamato dalle urle disperate di Gregorio che dall'alto di una torre lo assicurava che era stato chiamato un fabbro e che l'inconveniente si sarebbe risolto in breve tempo. Ma come sappiamo l'Italia è un paese dell'approssimazione e il fabbro è arrivato dopo tre giorni. Dimostrandosi impaziente oltre ogni limite, Enrico ha atteso fiducioso attendandosi presso un ruscello per dedicarsi ai suoi sport preferici, caccia e jogging. Quando infine il fabbro è arrivato e ha riparato la serratura, Enrico ha preteso le scuse dello staff papale come condizioni per entrare. Rompendo un'antica tradizione in base alla quale il Papa non deve mai chiedere scusa a nessuno, è stato Gregorio in persona a precipitarsi ad aprire il portone, inginocchiandosi umbilmente davanti all'imperatore e baciandogli sette volte il piede, tante quante sono i peccati capitali. Quindi, indossando un ruvido cilizio di penitente, si è seduto in terra facendo accomodare l'imperatore su un trono fatto costruire in fretta e furia dai migliori artigiani del posto. Mentre Matilde preparava una bevanda calda, è iniziato il colloquio che Enrico ha voluto concludere in fretta. In serata, infatti, secondo il calentario dei suoi impegni imperiali, aveva in programma una puntata in Lombardia per reprimere una ribellione di comuni. Tema centrale del colloquio è ovviamente il problema della scomunica. Enrico ha sollecitato Gregorio a revocarla immediatamente spiegando che in Germania ci sono almeno una dozzina di antipapi in pectore, tutti ugualmente ansiosi di sedere sulla poltrona pontificia. Gregorio ha intuito il pericolo che correva e si è scusato più volte per l'errore burocratico dovuto a un caso di omonimie. La scomunica, infatti, non era diretta a lui, ma a un certo Enrico da Pontassieve, un nobile toscano sorpreso a bestebbiare come tutti i toscani. Esattamente. La maggior parte dei toscani. Per le cattive condizioni del tempo. L'imperatore ha preso atto del disguido ma ha comunque imposto la revoca della scomunica per il nobile toscano. che era appunto Benardino, nel XVI secolo in concomitanza con il concilio di Trento. Il famoso scomunicatore di Usurai a comando. Sì, sì. Allora, lui, infatti, è conosciuto perché aveva avuto rapporti con Pio II che era un emissario particolarmente noto degli Usurai senesi che erano in lotta con gli Usurai fiorentini. Lo stesso di oggi, cari amici. Lo stesso di oggi. Cosa sta succedendo a Siena? Cosa fanno gli Usurai di Siena? È tutto lì. E perché? C'è una certa donna che si definisce Svizzera ma è soltanto ebrea che ritiene di essere stata eletta nella Guelfa Bologna patria dei? Di chi? Delle Sardine e dei Girondini. Ma per carità. Allora, ho detto, così per concludere il discorso degli Usurai che è tuttora valido e tuttora imperante. Con la caduta di Costantinopoli del 1453 o 52 adesso non mi ricordo bene sono successi una serie di conseguenze. Una di queste conseguenze è stata una cosa che ha toccato tutto l'Occidente diciamo il mondo conosciuto dell'epoca perché sotto l'impero ancora il romano impero d'Oriente c'erano vicino a Nicea proprio eh certo una cava di come cavolo si chiama di allume che serviva per tanti scopi che veniva utilizzato per tanti scopi in particolare era utilizzato in maniera totalitaria massiccia per tingere le lane o i tessuti in generale esatto esatto e siccome tutti la lana è grigio sporco diciamo così e tutti volevano differenziarsi per differenziarsi già in epoca romana tingevano con le ostriche la porpora no la porpora è purpura è una por è una conchiglia da cui si ricava anche il colore della porpora e lì la massiccia quantità di colorante che si utilizzava all'epoca era l'allume non era un colorante era il legante del colore del colore per il tessuto sì diciamo era per far aderire il colore al tessuto e poi non farlo svanire ogni volta che si lavava il problema è che c'hanno le massaglie anche oggi allora per tornare all'allume questa miniera a un certo punto è andata in mano agli ottomani al sultano e quindi non c'era più in occidente niente che non permettevano più il commercio che cosa hanno fatto non era ancora stato scoperto allumiere esatto e infatti il papa dell'epoca che era Pio II Piccolomini senese che aveva fatto aveva deciso di sguinzagliare per tutta Europa i suoi emissari e la ricerca di questo allume per sostituirlo perché era un business eccezionale uno dei motivi per cui è stata conquistata Costantinopoli perché oramai a Costantinopoli da portare via non c'era quasi più niente esatto l'unica cosa che veramente era importante e ricca era quella esatto per cui questa è la ragione per cui ricordiamocelo bene i crociati furono i primi a devastare Costantinopoli è certo esatto perché hanno cercato di rubare il più possibile come a Roma non è che vai a fare il sacco di Roma come se fosse Viterbo a Viterbo che è stata pure sede papale che vuoi che ci sia appunto ma a Roma che è durata mille anni la ruberia di Roma nei confronti del resto del mondo esatto c'erano le cose come e non a caso alla Ricco alla Ricco si era messo d'accordo col Papa per avere il permesso di saccheggiare la Roma pagana ma pure Attila con Leone Magno ha fatto la stessa cosa Leone Magno ha detto quanto vuoi per non saccheggiare cioè ha presso un po' dei forzieri pieni d'oro e di gioielli e gli ha trattato contenti e allora dice ma chi cazzo non mi frega meglio questo a gratis che andrà a combattere a ammazzare gente e rischiale di essere pure ammazzato esattamente questa è la realtà allora per tornare alla lume gira che ti rigira trovano queste cave di allume all'allumiere quello che adesso è allumiere tolfa che fra un altro lavora vicino a Civile Vecchia per cui vicino anche all'approdo per le macchine delle navi per andare a esportare dove vuoi insomma lì il signor Pio XII Piccolomini Pio II Piccolomini è diventato totalmente ricco che ha ricostruito la città ha fatto Pienza ha fatto altre cose non lasciamo stare non entriamo troppo cioè uscirono dalle orecchie come si dice a Roma dalle orecchie e chi è che ne ha tratto vantaggio i Piccolomini ovviamente esattamente che essendo già ricchi se no non sarebbero diventati i papi questa è troppo bella a proposito di banchieri usurai i banchieri usurai partono dalle piccole posizioni e allora in generale partono dai fratelli quelli siciliani che sono stati ammazzati tutti e due i cugini cioè i cugini siciliani i cugini salvo i salvo i salvo che facevano facevano i non a caso non a caso strettamente legati a Equitalia vabbè Andreotti ma Equitalia è una nazione di Andreotti lui non c'era più è morto quasi contemporaneamente Equitalia bisogna dire che è stata fondata a seguito di una legge dello Stato che aveva valutato tutta una serie di elementi che la rapina del sequestro o del come si dice quando tu vai viene l'esattore comunale il pignoramento ecco la funzione del pignoramento non metteva più paura agli italiani ne fregava un cazzo perché quelli arrivavano a aver pignorato i mezzi e non avevano più nessun interesse a fare altro era già oltre e attorno fra il 2000 e il 2001 sono state fatte emanate 3-4 leggi principali e un corollario di altre leggi che non sto a dire dalla 201 in poi la 167 167 insomma vabbè una serie di leggi fra il 99 e il 2001 per cui hanno diciamo riproposto le modalità per sequestrare ipotecare pignorare eccetera esattoriare ecco facciamo gli esattori ovviamente tutta questa gente qui anche salvo Lima allora che cosa ha detto no qui i soldi per la maggior parte vanno ai privati che fanno gli esattori allo Stato non gli arrivano le gocce facciamo qualcosa di statale e che cosa sono inventati Equitalia la metà dell'Inps e la metà dello Stato dicono non ha mai funzionato un cazzo di niente esattamente non entriamo nel dettaglio ma lì comunque si è fatto un po' tentato non entriamo troppo nel dettaglio che se no non ne usciamo più torniamo dal luniere quindi tutti partono dalla raccolta dall'esattoria l'esattoria che porta poi interesse la cosa importante è che dai sattori sono partiti pure i Tafani avete sentito mai parlare dei Tafani noi li chiamiamo Terpeni sì Tarfani allora questi signori Tarfani era un cognome era un cognome c'era gente che faceva i cognomi tra il 4 e il 500 sono nati dal lavoro dall'attività della famiglia eccetera uno appunto il Tafano i Tafani erano quelli che avevano soprannominato che rompevano il cazzo come i Tafani alle bestie esattamente questi discendenti di questa famiglia avevano quindi il nome Tafani a un certo punto se diventa di ricchi hanno cambiato nome indovinate chi erano vediamo se lo indovinite no io lo so ma non me lo ricordo no non lo sai non te lo ricordi no l'abbiamo detto l'abbiamo detto no non l'abbiamo mai detto questo l'ho scoperto da poco i Tafani erano i Barberini quelli che poi sono diventati i Barberini cioè i Papi hanno cominciato con l'esattoria locale piano piano si sono arricchiti 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 con l'usura poi con l'usura sono cresciuti a dismisura e a quel punto sono diventati cardinali papi carcivescovi santoni che vi pare a voi i Barberini di cui noi siamo amici di una discendente che è una bravissima persona che salutiamo ovviamente se ci guarda perché è una persona veramente notevole beh si può essere quando ci sono i soldi che girano in casa in ogni caso ma lei adesso questa persona ha la situazione che abbiamo tutti quanti noi anche lei è caduta in disgrazia ecco e quindi tutta una serie di conseguenze che non sa dire in ogni caso hanno sempre detto che quello che non fecero i Barberi fecero i Barberini è proprio per questo motivo qui perché si sono hanno distrutto praticamente tutto quello che c'era di recuperabile dall'archeologia classica romana e per poi utilizzarla per la costruzione dei loro immobili esattamente palazzo Barberini è lì a piazza Barberini appunto appunto a dimostrare quello appunto sopra sopra il mitreo Barberini sopra un mitreo che io ho visto bellissimo andatevelo a vedere è visitabile su appuntamento non è finita questa storia no finisco quindi l'allume è passato di mano nel corso degli anni fino a che però è diventato di utilizzo da parte del Papa del momento fino al 1860 quando un francese alchimista chimico che stavano crescendo come i funghi in quel periodo lì in Francia con l'illuminismo e tutto quello che è successo della rivoluzione eccetera e quindi lui come chimico ha inventato l'allume chimico per cui costava niente e giustamente ha fatto esplodere la chimica francese vedi queste cose cari amici però ricordiamoci sempre che quella frate quel Bernardino da Siena mi fai un favore questo Bernardino da Siena che ha arricchito moltissime persone metteva sotto accusa quegli ebrei che non pagavano quegli ebrei usurai che non pagavano la concessione governativa esatto la concessione era del Papa del Papa non governativa del Papa gli altri non contavano un caso governativa del Papa ecco se tu ebreo volevi fare l'usura dovevi pagare pagare no te lo dico pure pagare il bollo no non solo il bollo erano 250 chili d'argento all'anno esattamente 250 chili d'argento all'anno o all'anno è la stessa cosa concludiamo con le considerazioni di Matilde di Canossa sui rapporti molto amichevoli molto ravvicinati diciamo ma ci stiamo ancora col tempo? aspetta Canossa talvolta nel corso della vita ancora 5 minuti 3 minuti esatto talvolta nel corso della vita si verificano episodi che possono incidere in modo profondo nella coscienza dell'individuo e indurlo a tormentosi ripensamenti circa le proprie convinzioni e perfino i giudizi sul prossimo sono stata diretta testimone dell'incontro tra Gregorio e Enrico e devo confessare che non ho mai assistito a niente di più deprimente e sconcertante ricordiamo che Canossa non è Canosa in Puglia è Canossa in Emilia nel nord dell'Emilia nel nord sulla dorsale appenninica nella dorsale appenninica tra Toscana e Emilia nell'epicentro dell'area che oggi si chiama padania esatto il mio feudo era il frignano e più o meno siamo lì esatto è quello che oggi si chiama padania che è sempre stato l'epicentro della politica e della geopolitica italiana ma prima d'ora avevo visto due adulti fronteggiarsi in modo tanto infantile tra scambi di ripicche e gesti villani che hanno fatto inorridire perfino la mia servitù Gregorio VII era un analfabeta conclamato quindi un delinquente un giro con la spada come della rovere che pure è tra le più rozze di tutta la Toscana avevo fino a ieri un grande stima nei confronti di Gregorio cui mi accomunavano il sentimento religioso e una sostanziale identità di vedute politiche hai letto quanto a Enrico avevo sentito parlare di lui come di un uomo ambizioso e volitivo ma tutto sommato un gran signore molto degno del suo titolo imperiale messi uno di fronte all'altro sono regrediti all'età di 5 anni l'età in cui i bambini impiegano tutte le energie per competere tra loro a suon di dispetti non so proprio da dove cominciare per descrivere l'avvilente episodio ma era chiaro fin dalle prime battute che l'incontro si sarebbe avviato su una brutta china quando Enrico è arrivato ha cominciato a bussare come fosse dato percuotendo il portone con uno dei suoi soldati che era stato afferrato per i piedi e roteato come una clava per tutta risposta Gregorio dall'alto di una torre lo bersagliava con le vie su pellettini e minacciava di requisirgli la borgogna e la lotarigia dopo ben tre giorni tanto è durato l'indecoroso spettacolo che peraltro è costato la vita del soldato clava Enrico è riuscito a introdursi nel castello attraverso il passaggio segreto riservato ai miei amanti subito è cominciato che lui conosceva guarda subito è cominciato un furioso battimecco con Gregorio che pretendeva di farsi baciare i piedi e Enrico che rispondeva con un gestaccio gestaccio e urlava isterico dove diavola hai nascosto la mia corona imperiale ma forse per avere un'idea del confronto tra i due può essere più utile riportare un passo del loro dialogo ebbene sì ha detto Gregorio la corona è qui nel castello ma non ti dico dove l'ho nascosta ed Enrico di rimando no allora sappi che domani vado a Roma e nomino Papa il primo che incontro per strada non puoi ha esclamato Gregorio non sei più imperatore già perché tu credi di essere ancora Papa a questo punto Gregorio si è gonfiato il petto urlando vada a come parli sai tu mi devi chiamare Santità Enrico se l'hai squadrato dalla testa ai piedi poi esplose una fragorosa risata e gli ha dato uno spintore esclamando ma mi faccia il piacere Papa con quella faccia roba davanti al spettacolo cioè di che preoccuparsi se la diplomazia internazionale è affidata a personaggi come questo non vado oltre per non inorridire il lettore il quale avrà già intuito che il seguito è stato un poco con nobile scambio di gesti delle corna linguacce turpiloquio con insistenti riferimenti al membro virile sempre solongue per cui cari amici questa è la realtà tutto il resto sono infiorescenze primaverili saluti sempre solongue sempre c'è ancora in qualche minuto ma spengo bene Grazie a tutti.